eccovi qua vediamo insieme oggi questa maglia retro del celsi per la stagione 2012 2013 la prima caso via prima maglia ovviamente quella di casa di lampard l'amore a me questa maglia piace molto la rifiutura in oro diciamo così da quel tocco in più tra l'altro di uno dei miei giocatori preferiti di lampard che è un centrocampista fantastico del tempo qui in alto vedete il costo non aggiungo altro parla da solo decidete voi cosa fare qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia vi ricordo che c'è anche un link per ottenere uno sconto un coupon a 3 dollari quindi il costo che avevate prima diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale prima però vi prego di iscrivervi al canale a voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso a 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan